a seguire Nani e poi Caninken Allora, il giudice di questo raggruppamento il giudice di questo raggruppamento dalla Slovenia il signor Stefan Cinco ecco qua, Stefan Cinco ok, Bassotto standard a pelo lungo, Bassotto standard a pelo duro, Nano pelo corto, Nano pelo lungo, prego, Nano pelo duro, Caninken pelo lungo, Caninken pelo corto Allora, gruppo cinque nel pre-ring Allora, vediamo tutti i Bassotti, Bassotto standard a pelo lungo, standard a pelo duro, Nano appelo corto, Nano appelo lungo, Caninken appelo duro e Caninken no, Nano appelo duro, Caninken appelo lungo e Caninken appelo corto grazie a tutti i Bassotti, Allora ci siamo terzo posto Bassotto standard pelo duro Al secondo posto Caninchen pelo lungo Vince Caninchen pelo duro Nano scusate Grazie a tutti